ragazzi buonasera rieccoci qua derby caspita non sapevo che c'era il derby dopo la sosta siamo 15 di ottobre in casa inter milan a la classifica tra l'altro siamo a pari punti con la juve 17 punti lazio 14 punti sandorio 14 punti ha perso quindi appollaiati scusa ma dove sta il milan icardi capocannoniere 6 gol fa andare più giù vediamo poi dopo dove il milan gioco a partita vorrei cambiare un po di carte in tavola allora così bianchi si penso non si faccio niente altrimenti così no così ci può stare visto che ci hanno le calzettoni bianchi vorrei cambiare un po di cose allora il del titolare icardi va bene soltanto non tutti riposati gagliardini pesino boh lasciare così dai canselo non so se canselo più avanzato troviamo grosso vicino a posto di pesino a posti caramolo no lasciamo così dai lasciamo così dai lasciamo così per il derby se quello montolivo mi sembra un egiziano sembra gioca partita dammi la madonna della madonna caspita non sapevo c'era il derby non mi ricordavo più rigori bronzo andavo un po le larmi con i rigori eh non ho sbagliato attenzione che merda andiamo avanti mi allenerò poi quando ci sarà più tempo eccoci qua derby della madonna ecco perditi ci sta scaldando attenzione questo è ho già visto questo chi è numero 8 del milan non mi ricordo eccoci qua san siro fantastico notte eccolo qua san siro nerazzurra per il derby icardi campo cannoniere con 6 gol cruva del mila 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 ci mila eh già sono emozionatissimo guarda borini andresi buonaventura andarono ci posso mai a lucido sì via si comincia comincia il derby EA Sports it's in game non possiamo sbagliare questa partita dobbiamo vincere assolutamente per rimanere in testa possibilmente attenzione Inter già in attacco Eder ancora Eder uomo uomo giocatore del medio tra l'altro un po' che ho sbagliato due gol fatti gioca anselo attenzione ed è attenzione al minan attenzione madonna sono più veloci si vede che attenzione Valero anticipa via susso suso perché suso ah era suso si oh oh andresi va 1-0 ma porca sono riuscito a fermarlo sono riuscito a fermarlo proprio vediamo sotto le gambe è passata due tunnel andresi va 1-0 dodicesimo niente non non ci abbiamo capito niente doccia fredda proprio così all'istante ma andiamo avanti candreva dai su buttiamola in mezzo sto minan è partito proprio ma come cacchio corre andresi va ok candreva dai si icardi 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 e non c'è nessuno però aspettavo le d'era ma non è ancora arrivato dai si cansello bravo porca valero c'è peredic che è partito peredic 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 icardi non è fuori gioco rigore 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 non possiamo sbagliare adesso non possiamo sbagliare vediamo se c'è rigore ci ha lasciato un po' a dare musacchio madonna non c'ho l'ansia non c'ho l'ansia icardi ancora sul dischetto proviamo a tirare di qua e se sbagli ti ammazzo si si vaffanbango ed er che cacchio due rigori su due sbagliati in due giornate incredibile fa un bagno ed er uno pari dopo il rigore sbagliato difesa del Milan imbarazzante ed er non sbaglia meno male meno male uno pari e abbiamo realizzato in un derby che poteva andare solto grande quarto gol in serie A oh meno male va stavo già stavo già impazzendo bene adesso non ci rilassiamo e tentiamo di fare il secondo bravo si agguerriti agguerriti Valero perde palla la riprende non la riprende no niente il triangolo no buonaventura Andre Silva anche su Milan calcio spettacolo proprio a prendere pallone Cansello spazza via per vedere non c'è arrivato ancora in Milan in attacco bravo d'Albert per Icardi che perde il pallone maledizione Cansello in avanti verso il nulla a mozzo proprio tirato dai buonuzzi via occhio mia madonna ma sono Andre Silva cos'è non è rigore non rompere via niente fuori gioco fuori gioco angolo angolo attenzione Andanovic di pugno Montolivo Bonucci ancora in avanti Milan no non riusciamo proprio a chiudere bene uh Miranda bravissimo spazio in avanti per Icardi in contropiede non mi dispiacerebbe Gagliardini in avanti per Eder Icardi no facevo il triangolo facevo figuro tempo eh diciamo che è una partita molto scoppiettante scoppiettante uno pari un gol a testa diciamo che il risultato giusto per il momento credo almeno credo dai torniamo subito perché qua voglio sbloccarla stavolta Montolivo mi riesco a prendere il pallone una lezione bravo D'Albert Peretic no dai sti errori sti orrori uh Andanovic chiude su Suso madonna mia grande parata la sua angolo attenzione ma guarda parola nostra nostra dai 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 subito 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 dai Andreva per Eder ma no ma che prossima Napoli Inter c'era mamma mia punta l'aria attenzione oh non riesco guarda proprio una cosa su Milan una cosa incredibile non è togliere il pallone ribattuto ancora angolo per il Milan siamo alle corde siamo stretti alle corde qua con il Milan se lo riusciamo a pareggiare è già un miracolo mio dio Karinic ha deviato uno dei miei però caccio d'angolo 58esimo no dov'è dai su che tua bene volcavalero l'ha presa attenzione dai Cardi parti Icardi Cardi 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 c'è procurato da solo porta libera 2 a 1 Inter in contropiede che la sblocca volcavalero grande contropiede fantastico e der eh sì scusate Icardi che vede da solo volcavalero a porta libera non può sbagliare 2 a 1 che sudata ragazzi che sudata questo derby manomale che questo contropiede c'ha uuu no vantaggio Borini bravo Cagliardini che chiude Peredic dai pure il terzo dai pure il terzo pure il terzo pure il terzo proviamo a buttarlo in avanti di così no per aggiorare questa mi dispiacerebbe però eh ma che siamo in vantaggio Dalbert tranquillo tranquillo gestiamo il pallone che qua si Candreva 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 Icardi dopo vuole fare un bel cambietto magari dobbiamo utilizzare il settantesimo Cancelo cross in mezzo e derby un po' spintonato almeno credo Caninic può controllare palla dai chiudi 73 esi non finisce più sta partita squadra un po' stanche con tutti i miei si regolano più in piedi si Cagliardini anticipa no 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 Andamic oddio si Cancelo per Santon va bene Montolivo esce perché si altro angolo per il Milan Milan che ci sta un po' schiacciando ma meno male che abbiamo fatto 2-1 esce Cancelo si assomiglia per niente attenzione Andamic che derby scoppiettante Icardi no no non c'è nessuno a far sponda attenzione occhio si bravo non so chi era ma bravo dai Gagliardini maledizione minchia no via Miranda si soffre qua Peretic sua sinistra stremato Borcavalero Peretic ultimo sforzo cross in mezzo ribattuta 3-1 3-1 gol di che ha segnato Icardi Icardi cambio Giovan Mario per Valero va bene gol di Icardi settimo gol in campionato 87 meno male questa è la prima partita rosicata rosicata questa esce Valero entra Giovan Mario meno male meno male meno male l'abbiamo pure addirittura chiusa questa partita non ci credevo più attenzione su uso su sopra gli amici non è fuori Borini in mezzo per Kalinic andiamo 3 minuti recupero no non volevo rinviare subito occhio 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 Santon chiude si ancora qua la palla no no dai prendila via prego ragazzi forza Inter andiamo avanti con 20 punti stupendo stupendo ciao ragazzi sono uguali gli allenatori ciao grazie